Mano qualcosa di illuminescente. Questa è la nostra cena dell'ora della terra. Sembra Nutella vista dalla ripresa. Dici? Il marrone. Mela, zana e la parmigiana. Non si vede niente? Niente, niente. Solo una cosa marrone dentro una teglia. Allora spegni. Comunque buona ora della terra. Abbiamo illuminato a giorno qua. Fate un giro della... Ci sarebbero anche i nostri gattini, ma non ci sono. I gattini sono in giro, non godono perché si vede a loro pezzi. Allora spegni.